Ma, 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 ma! Bene, bene, perché se cambiate idea anche voi non ci si può più fidare di niente Quindi avete due condizioni semplicemente di tenere sotto controllo Una è la mia azione esterna e una è come il mio corpo Quindi da un testa e corpo cercate sempre di gestire l'essenza Spiego Cosa voi sapevi con questo interrogatorio? Chi era l'uomo? Che noi pensiamo che voi due siete due banditeschi bugiardi? A questa notte insonné, ai dubbi, alla scelta che sto facendo Ho il coraggio di farla, speriamo che mi dia un po' di gioia dopo E che altro? E basta Ho capito Ho capito Grazie.